Dobbiamo semplificare questo radicale. E come si fa? Di solito si moltiplica numeratore e denominatore per il coniugato del denominatore. Siccome qua il denominatore è 7 più 3 radice di 5, il coniugato è 7 meno 3 radice di 5. Quindi si moltiplica numeratore e denominatore per 7 meno 3 radice di 5 e quindi diventa la seguente. Quindi si eseguono i prodotti al numeratore e al denominatore e applicando le regole dell'algebra delle moltiplicazioni. Al numeratore è quella classica, al denominatore si può applicare quella della differenza dei quadrati e quindi per venire direttamente al risultato. Applicando le normali regole di somma e sottrazioni dei monomi simili si semplificano sia il numeratore che il denominatore. E poi dividendo numeratore e denominatore per 2 abbiamo il seguente risultato finale.